La maculopatia è praticamente una patologia che interessa il centro della visione distinta. Questa piccola area della retina può essere colpita da varie patologie e da varie cause. Possono essere di natura degenerativa o di natura legata per esempio a delle miopie elevate o anche a alterazioni vascolari tipo diabete o occlusioni o patologie secondarie anche ad interventi di oculistica come la cataratta o i distacchi di retina. In alcuni casi si può migliorare sicuramente o stabilizzare il dato patologico. Ho ritenuto voler organizzare questa giornata per focalizzare questo tema che è abbastanza importante, creando un confronto fondamentalmente tra gli oculisti della Puglia, maggiori esperti in questo campo della Puglia, e gli oculisti pugliesi, esperti nella materia, che praticano la loro professione, la loro esperienza in altre regioni d'Italia, come il professor Bandello o il professor Avitabile, che è direttore a Catania, il professor Mastro Pasqua, che è pugliese ma lavora presso l'Università di Chieti. Insomma una serie di personalità legate alla Puglia per mille motivi. Grazie a tutti.